ola a todos benvenuti in un nuovo video come state spero tutto bene fatemi sapere nei commentini io e Sofì siamo ancora raffreddate infatti non sto facendo video perché non sono proprio in forma ho fatto tre giorni col mal di testa mamma mia il mal di testa mi butta troppo giù e Sofì sta facendo l'aria e lo dicevo siamo ancora raffreddate ma comunque un pochettino meglio e oggi faccio un mini video un altro mini svuota la spesa Roby è fuori in giordino mi approfitto faccio in fretta in fretta questo video al volo per mandarvi un baciotissimo vi faccio vedere cosa ho preso appunto siamo state alle ledio e Sofì quando sono andata a prenderla da asilo avevo fatto un salto ho speso 16,59 ho preso proprio un paio di cosettine ho preso i bocconcini questi paninetti morbidosi che sono una bontà poi un bel cupettone cacomela erano in offerta quindi cacimela poi abbiamo preso gli hamburger poi gli spiedini tipici questi qua con i peperoni poi questi non li abbiamo mai provati quindi ho detto dai li proviamo questi qua gli gnocchi ripieni mozzarella e pomodoro e ca bianca non ne ho mai provati quindi poi vediamo come sono poi ho ricomprato perché abbiamo finito un vasettone da chilo di yogurt alla banana questo malga paradiso è una bontà divina buonissimo questo yogurt ci è piaciuto tantissimo ce la siamo appappate tutte io e Sofì poi i pomodori rossi ed infine le patatine che volevo fare con gli hamburger però al forno queste qua le specialità di peppe patatine fritte da un chilo pronte in sei minuti queste qua le volevo provare proprio una mini spesuccia al volo fatta così spero di aver ritenuto questi due minutini di compagnia io lo dico sempre ma è perché mi fa davvero tanto 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 piacere se lo faccio e vi mando tanti tanti super baciotissimi grazie per aver visto il video e se vi va ci vediamo al prossimo ciao